Ma è grandemente questo progetto perché la missione di Bayer è Science for a Better Life, scienza per una vita migliore. La cultura, la diffusione di messaggi sociali possono contribuire fortemente a migliorare la qualità della vita. E allora, fare un film che spiega non in maniera didascalica, ma in maniera emozionale, che la vita è bella e bisogna salvaguardarla anche guidando bene, anche bevendo in maniera consapevole, questo può aiutare tanto. E quindi se noi riusciremo soltanto con questo film, che devo dire è stato visto veramente da tantissime persone, a evitare anche solo a un ragazzo di finire in ospedale o peggio, il nostro lavoro sarà stato molto coerente con la missione che abbiamo. Perché non dimentichiamoci che un'azienda, per un gruppo come questo, come Bayer, è importante fare prodotti buoni, ma è anche importante aiutare la società che la circonda. Serve la cassa di risonanza e poi ci siamo legati alle arti, voglio dire, vuol dire il cinema, ma anche la musica. Tantissime cose facciamo legate a quello, perché non dobbiamo mai dimenticarci che c'è un mondo che aspetta soltanto di avere messaggi positivi e belli dalle arti. Quindi il cinema è un di cui, ma anche la musica, tutto quello che è bellezza, può aiutare anche in momenti così difficili e complicati per tutti. Grazie dottore, molto gentile.